ciao ragazzi stasera siamo nella cantina perché devo farvi vedere una cosa fighissima allora se non sapete come riciclare un bancale ve lo spiego io avevo questo bancale l'ho smontato tutto a listelli e siccome mi serviva un supporto per il pc e per il telefono durante le mie sessioni sui uri ho deciso di riciclare questo bancale costruendo il supporto che adesso vi faccio vedere eccolo qua allora praticamente che cosa ho fatto questo lasciamo perdere che è stato fatto dopo per per tenere il telefonino sostanzialmente funziona così banalmente vado a mettere il telefonino e sta in posizione senza senza problemi però diciamo questo non ci interessa più di tanto quello che ci interessa è il supporto per telefono e pc quindi ho tagliato tutte le assi del bancale dopodiché ho costruito questa prima diciamo base dove andrò ad appoggiare il pc o il telefonino come in questo caso sotto vedete c'è un asse trasversale capire insieme tutti gli altri assi chiaramente sono comunque anche incollate con la colla vinilica i quadrotti li ho utilizzati per dare stabilità al supporto e sotto stessa identica cosa ho fatto la base con la stessa logica quindi le assi messe in orizzontale più questa in verticale che le tue insieme i quadrotti per tenere il tutto fissato questi due invece sono le due assi più lunghe con questo taglio inclinato che consente di creare questa sorta di z che praticamente riesce in questo modo a distribuire il peso in modo tale che non cada da nessuna parte insomma nei davanti perché chiaramente c'è la base che lo blocca e indietro perché comunque il peso è sbilanciato da quest'altra parte quindi assolutamente semplicissimo prima cosa facevo prima avevo questo e l'avrete visto in qualche video avevo questo questo asse qua lo infilavo nel diciamo nella morsa del cavalletto della bici mi mettevo davanti il cavalletto della bici questi questi diciamo queste viti servivano per reggere il il telefonino e utilizzavo il telefonino per guardare video magari per non so ascoltare la musica quello che è siccome adesso vorrei utilizzare e sfruttare ho fatto l'abbonamento con il software di elite o e light come si dice il penso che si dica e allora vorrei utilizzare il pc che sicuramente più comodo anche solo per guardare video quindi ricicliamo non buttiamo via niente e mi sembra veramente un buon un buon metodo per riutilizzare un bancale che fa il suo sporco lavoro quindi mi raccomando mettete un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto mi date veramente una grande vero grazie mille alla prossima ciao